E benvenuti ragazzi siamo qui sempre su Roblox Oggi c'è una novità grandissima per il canale Perché oggi andrò a giocare con il mio nuovo mouse da gaming e la tastiera Io lo dico non sono tanto bravo con mouse e tastiera Io gioco sempre col gamepad E se vedrò che le cose andranno male Inizierò il gamepad e giocherò con quello Se ho fermatoci su sta cosa Sta caricando Aspettando che carica Ovviamente vi volevo parlare di un'importantissima notizia Che ho scoperto Ossia che Aaron Blades ha fatto un figlio Che nascerà tra credo 9 mesi Però se siete a fare attenzione perché molto spesso I primi figli si abortiscono sempre naturalmente Si si abortiscono sempre naturalmente E quando carichi inizieremo a giocare Comunque mi ha proprio sconvolto sta notizia Perché Aaron Blades è proprio un bravo youtuber Mi piace Ho paura che poi non porto più video su youtube Perché è il mio youtube preferito Scrivete sotto nei commenti qual è il vostro youtube preferito E niente Sempre tre anni a caricare Bravo Roblox Bravo i miei computer Bravo la mia linea E niente Dove si spawna Ah ho sbloccato il G36 Proprio poco tempo fa Sono iniziato a rango 7 Ho sbloccato il G36 Sarebbe tipo Oh l'ho ucciso Sarebbe per esempio Come si chiama quella cosa Deathmatch a squadra Solo che devi prendere le piazzine a terra Quando vuole qualcuno Hanno comprato una modalità Hanno fatto una modalità Boh Nel mio mouse ci sta un tasto speciale Se sotto nei commenti vi potete scrivere E lo scrivo E lo setto Perché È difficile scivolare con C Non mi trovo tanto Quindi vorrei usare quello per scivolare Oh Questi vanno sponchi Infatti Infatti Mi devo abbassare Però abbassare Mi devo fare tutto orientalmente Ecco Mi spetta Prima che giocavo con il gamepad Che la mira se ne andava Come si dava sulla scala Ah io non posso dire più sulle scale Perfetto No che si faccia Corri Corri Magari in mano Bravo Noo che cazzo Che cazzo è una volta C'avevo le 4 di vita C'avevo Allora Come cazzo Ma questi abbassano Fanno Come cazzo fare A premereci velocemente Secondo me Giorano col gamepad Pure loro Pure no Perché sto giocando Con massa e tassiera E si vede Che sto facendo Tutti a carri del solito Che ci faccio cagare Non ci riesciamo più Da qua dentro Circolo vizio Questo Se ho un bomba O un ciclino Dove entrare A me mi spacciare Che poi Per saltare il fuoco D'automatica Siamo automatico Bisogna premere B E che cazzo è B B è difficile Come cazzo Anche per cambiare l'arma Oh oh E' vero Questo è l'altro Ultimo ci sono No ho messo Quell'altro da dietro Ma non mi avessero Ma non mi avessero Ma non mi avessero Ma non mi avessero Quando cazzo è pro questo Ehm Il prossimo round Lo faremo pure io Con il cerchino Però questa volta Con il minino di base Non cambiato K C R Scusate ma mi devo Abbientare con i Tassi del pc Che ovviamente Sul controllo Sta tutto bene Là Messo Tutto bello Bello Che è tutto Chi altro là Siamo un po' Lasso Facciamo di devasto Non è scattile Sulla scala Ovviamente Oh Sali No 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 Sono morto Sono morto Perché non sono Sulla scala Vieni voi Ui tu mi è ucciso Come vai Ma con contro Si contro Che cazzo sta contro Pure con shift Si deve fare qualcosa Quindi shift Dove sta a shift No sono morto Guarda questo Ma questo è troppo pro Che c'aveva Il dragon sub Che è un sub O sia la macchina alta Con il drago vicino Togliamoci Il Il mirino Togliamoci Tutti dicono shift Dove sta a shift Shift Mi dico che devo Prendere Che cazzo sta a shift Allora Se potete Scrivere pure il shift Dove sta O se ho il cecchino Non lo posso fare Perché questo Non rispira pesante Dove cazzo sta a shift Che cazzo Io mi sono abbassato Prendere Stai a casa Mentre tre anni Per essere Una scala Che cazzo sta a shift 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 Non lo so Ma non so Così proprio di questo Perché questi Ci impagno di Tasti meno Da No Non trovo La shift Questa 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 È Questa Cazzo È Sicuramente Oh Non sono Caduto Dove Luce Dio No No Sto Mi ha sparato No Tutti Sto Troppo Forte Devo Trovare Shift Che Questo Devo Trovare Non metto e fai tutti i tasti Quale shift Capito Quanto shift È pronta Che cazzo sta sto shift Colmigno lo devo premere lo shift Carelle si prende Come se no Dio shift Come cazzo ti chiami Una piccola cecchina la portiamo in questo video Non lo so veramente Devo portare un po' di qualità Dicono eh il cecchino è meglio con mouse e testina Che cazzo ma questi fanno cacca di mano Ogni volta questi e questi cecchini No No Si corri con shift Meno male Troppi tasti non capisco Mi sta facendo male la mano Ma cosa è siccome la partita Alla fine del video Attenzione 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 E il video può finire qui Qui è OBS E vi saluto Ciao Ciao